La strategia del governo per la transizione verso l'economia circolare? Questo ministero ha cambiato non solo nome, quindi non è il ministero dell'ambiente, è il ministero della transizione ecologica proprio perché è un ministero che vuole avere una visione chiara, una visione concreta di sviluppo sostenibile, ovvero tutelare l'ambiente in un'ottica green, non sacrificando l'economia del nostro paese e quindi la visione è una visione di concretezza, di pragmatismo, di dialogo con tutto il mondo produttivo, con i cittadini, la visione appunto di chi vuole avere degli obiettivi chiari e importanti e soprattutto li vuole raggiungere.